Giovanni 5 Dopo queste cose ci fu una festa dei Giusei e Gesù salve a Gesù Salome L'ora a Gesù Salome, verso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in grado di testa, che ha cinque mortici. Tutti questi mortici giacevano nel numero di infermi, di ciechi, di zottili, di paralitici, i quali aspettavano l'aggirarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva dalla vasca e metteva l'acqua in movimento. Il primo che mi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù veduto, che giaceva, e sarebbe già da lungo tempo stato lo sì, gli disse, vuoi guarire? L'infermo gli rispose, signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci provo io, un altro mi scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo retuccio e cammina. In quell'istante l'uomo fu morito e preso il tuo retuccio si vise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò ti rendi se l'avamo morito è sabato e non ti è permesso di portare il tuo retuccio. Velli rispose loro, quello che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo retuccio e cammina. Essi mi domandarono, chi è l'uomo che ti ha detto, prendi il tuo retuccio e cammina? Ma quello che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti era allontanato, perché in quell'uomo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse a Giuseppe che colui che era guarito da Gesù. Per questo Giuseppe ha segnato a Gesù e cercano di riusciterlo, perché faceva quelle cose di sabato. Ameno. Oggi volevo riflettere su un miracolo che Gesù fa nel Vangelo di Giovanni. Il mio tema sarà questo miracolo nel Gospetto di Giuseppe 5. Il punto è, do you want to be healed? Una frase che Gesù dice al paralitico. Il paralitico di Bethesda è un miracolato senza fede. Ecco, i miracoli nel Vangelo di Gesù sono miracoli che non hanno soltanto lo scopo di guarire qualcuno, di dimostrare la potenza di Dio, ma anche di insegnare delle cose, anche di farci capire anche dove noi siamo in questa storia. Io vorrei infatti sfidarvi, incoraggiarvi a pensare, ma io dove sono in questa storia? E questo uomo, abbiamo letto prima, Franco ha letto questo messaggio, e abbiamo visto che quest'uomo non chiede niente a Gesù, non dimostra di avere fede, anzi quando gli viene chiesto, ma chi ti ha guarito? Lui dice, non lo so veramente chi mi ha guarito. Questo va un po' contro quello che noi spesso diciamo? Abbi fede e il Signore risponderà alle tue priglie, è vero, ma il Signore può guarirci e può toccarci anche se noi non abbiamo fede, anche se siamo duri di cuore, anche se non sappiamo neanche chi è Lui, c'è un progetto per ognuno di noi nel Signore. Il testo l'abbiamo letto, per cui non mi fermo tanto a rileggerlo, ma c'è quest'uomo che sta lì da 38 anni, che sta bloccato, e il Signore gli chiede, dice, ma vuoi essere guarito? E lui dice, ma io non ho nessuno che mi guarisca, come posso? Nessuno che mi porti vicino all'acqua, perché l'acqua si muoveva e secondo una tradizione la gente poteva essere guarita. Bethesda vuol dire casa di misericordia, questa è la Bethesda, questa è nel Maryland, National Institute of Health Clinical Center, uno dei più grandi centri del mondo per la salute della gente, hanno preso questo nome negli Stati Uniti per creare uno dei più grandi centri per la salute. Vedete come tante volte una piccola storia crea qualcosa che durerà negli anni, ognuno che passerà di qua, credo, i milioni di persone che passano di qua, e Bethesda è una cittadina che sta lì negli Stati Uniti, hanno deciso proprio lì di creare questo centro, l'Istituto Nazionale per la salute, dove milioni di persone ogni anno si rivolgono. E quindi sapete che Bethesda vuol dire appunto la casa della misericordia. E questa è, secondo gli scavi, proprio la piscina che c'era lì a Gerusalemme, quello che rimane di questo momento. Quindi è una storia anche con dei riferimenti precisi. Era lì, infatti, dirà dove ci sono le cinque colonne, c'è questa tradizione, quindi una storia ben documentata. E questa storia, c'è questa domanda che io in queste ultime settimane, quando ho letto questa storia, mi frullava nella testa. Vuoi guarire? Ma infatti dico, ma scusa, ma che domanda mi fai, Signore? Voglio guarire. Io sono malamato e mi chiedi se voglio guarire. Ma tu sei pazzo, Gesù? Vedete come Gesù in qualche modo rovescia i tavolini delle nostre certezze? E dirà a questa persona che era lì da 38, non sappiamo se era lì da 38 anni, ma lui dirà, e poi torneremo su questo 38, perché niente nella parola di Dio è per caso. E il fatto che anche noi, e questa è un po' una riflessione per noi, da molto tempo abbiamo dei problemi, magari fisici, magari spirituali, e lui vuole guarirci, lui ci offre questa cosa. Però quest'uomo che cosa fa quando gli chiede al paralitico se vuole guarire, possiamo dire che comincia a lamentarsi? Non gli risponde, sì Signore che voglio guarire, ma certo sono qui da 38 anni, no? Lui gli dice, forse ha usato anche questo tono, eh Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre magari ci vengo un altro vi scende prima di me. Vittimismo, incredulità, giustificazione, rassegnazione. Altre volte Gesù chiederà a qualcuno che cosa voleva, per esempio al cieco di Gerico, lui dice, io voglio vedere Signore. A questo nome invece che non chiede niente a Gesù, che non ha richieste, possiamo dire che non ha più speranze, lui era lì, era il suo posto, un uomo paralizzato, bloccato, che aspettava qualcosa dal cielo, ma quando questo qualcosa dal cielo gli arriva neanche lo riconosce. Io credo che siamo un po' anche noi così, la nostra incredulità. Noi credo che alcune volte neghiamo al nostro Signore di operare nella nostra vita e indirizziamo lo sguardo su ciò che è negativo, che in realtà ci mostra e questo ci causa delusione. Cioè di fronte al nostro Signore che ci dice, ma tu vuoi essere guarito? Guarito da cosa Signore? Tanto per parlare dei nostri problemi, dall'incredulità, dalla, sapete uno dei peccati più gravi secondo me che esistono fra di noi, fratelli, qual è? la picrizia. Ma chi te lo fa fare? Vabbè, adesso fa caldo, poi magari vado in comunità che fa caldo, no? E poi però fa freddo, poi piove, quindi alla fine diciamo dei giorni belli, perfetti, quelli con 20 gradi, temperatura asciutta e senza vento, quanti saranno? 20 durante un anno. E questa è la misura della nostra fede? Noi veramente abbiamo bisogno un po' di guarire da questo e chiederci, ma tu vuoi uscire da questa condizione o ti trovi bene? Dalle tue emozioni ferite? Ma vuoi guarire dalla tua pigrizia, dalla tua insofferenza, dal tuo fastidio che magari hai nei confronti di certe situazioni? Io vorrei veramente oggi noi portassimo a casa, se potete anche dimenticare un po' tutto quello che sto dicendo, ma portarvi questa domanda con voi. Vuoi essere guarito? Ma io signore sono magari già battezzato, sono già da tanti anni nella chiesa, ma tu vuoi essere guarito? Restiamo su quello. Questo è il testo che abbiamo letto e lui risponde al Signore, versetto 7, Signore io non ho nessuno che mi immerga, mi è capitato mai di sentire qualcuno, io sono solo, io non c'ho nessuno. E cristiani credenti che dicono io non ho nessuno quando il Signore è con noi e mentre sto per andare a fare le giustificazioni, Gesù non perde tempo e gli dice alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante l'uomo guarì, prese il suo lettuccio e cominciò a camminare. Anche questo mi sembra, in questo miracolo ci sono tante cose un po' strane. Perché secondo voi Gesù dice al paralitico prendi il letto e vattene? Poteva lasciarlo là, non gli serviva più. Forse per ricordare da dove veniva? Forse per ricordargli, magari con gratitudine, ricordati qual era il tuo peccato, qual era il tuo problema, qual era la tua malattia. Sapete noi spesso preghiamo il Signore, Signore fa che il mio ginocchio possa guarire, Signore preghiamo per il ginocchio di Francesco, di Marina, di Giuseppe, preghiamo per questo problema. e poi noi ci dimentichiamo, le cose avvengono, grazie a Dio possiamo anche guarire, però poi dimentichiamo di ringraziare il Signore. In quell'istante quell'uomo guarì. E come ho detto prima, questo è un miracolo senza fede, perché andando avanti, Giovanni, l'Evangelista, sottolinea che era un giorno di sabato. E questo apre un'altra bella discussione. e i giudei che stavano là gli dissero, ah ah, e forse per questo il Signore gli chiede di prendere il lettuccio, guarda che è sabato, tu non puoi portare il tuo lettuccio. Non so se ci possiamo immergere in un attimo in questa situazione. È avvenuta una cosa straordinaria. Il Signore ha compiuto un miracolo straordinario? Un uomo che era paralitico, bloccato, infelice, riacquista la gioia della salute? E che cosa viene sottolineato? Ah ah, è sabato, devi lasciare il tuo lettuccio. Non ti è lecito prendere su il tuo lettuccio. C'è un tipo di religione, fratelli, che secondo me è tossica, è quella che è fatta soltanto di ciò che noi non possiamo fare. Questo no, quell'altro no, quell'altro così, c'ho tante storie che potrei raccontare anche ultimamente, ma non voglio in questo contesto mettere energie negative. Però quante volte abbiamo fatto qualcosa di buono, o abbiamo magari fatto un bel programma, è qualcuno che trova subito le cose negative. io ne citerò soltanto una, andiamo in una missione medica in Africa. E tornando, abbiamo le foto lì, insomma, impegnativa, per chi c'è stato sa che cosa sto dicendo. E venne un fratello e disse, ah vi siete fatti una bella vacanza, eh? Ecco, questo fa parte di questa gente, persone che guardano soltanto ciò che è negativo. E infatti dico che lui non ha fede, per cui gli dice, ma, eh, colui che mi ha guarito mi ha detto di prendere il lettuccio. E gli chiesero a loro, e chi è stato a dirtelo? E colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Ecco, qualche volta le cose avvengono nella nostra vita e noi diciamo, ma è per caso è venuto questo? Ah, che fortuna che è successo quest'altro? Io credo che il Signore guida la nostra vita, il Signore è nella nostra vita. E Gesù fa una cosa abbastanza importante dopo di questo, perché non sia soltanto la guarigione fisica la cosa importante, ma gli dice, ecco sei guarito, non peccare più perché non ti abbia accadere qualcosa di peggio. Quante volte noi pensiamo e chiediamo la guarigione fisica? Diciamo che forse l'ottante, il 90% delle nostre richieste, Gilberto ci invia veramente con tanta attenzione, un problema, l'altro problema, una malattia, un ricovero. però non ne abbiamo tante di richieste, Signore guarisci il mio spirito. Io sono in crisi, ho un problema, ho bisogno di essere guarito da questo mio problema spirituale, pregate per me in questo senso. Sapete qual è la conseguenza di questa giornata? Io posso dire una bella giornata, una giornata dove qualcuno era stato guarito da una malattia che durava da così tanto tempo, dice la scrittura. E per queste cose i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato. Noi sappiamo che più volte il Signore ha detto il sabato, che pure è un comandamento divino, è fatto per l'uomo. Noi siamo fatti per certe cose, non viceversa, noi non siamo stati fatti perché dobbiamo ubbidire al sabato. E poi mi potete dire quale grande peccato è prendere il poverettuccio e alzarsi. Però in questo miracolo Gesù sta sottolineando la differenza fra la spiritualità, la cosa fatta con il cuore e invece il letteralismo. E' scritto così, stavo leggendo tutte le cose che erano vietate di sabato, le volevo mettere, ma è lunghissimo, è lunghissimo. Tutte le cose che non si possono fare di sabato. Puoi fare, altre volte il Signore dirà su questo discorso, ma se vi cade qualcuno nella bue che fate, lo lasciate lì. Ecco, questo è importante. C'è un'altra cosa che mi colpisce in questa storia, perché niente accade per caso nella parola di Dio. Perché se io vi dirò da quanto tempo era ammalato il cieco di Gerico? Voi dite, ma era cieco. Da quanto tempo i dieci lebrosi erano lebrosi? Non lo sappiamo. Perché il Signore qui o l'Evangelista scrive che era malato con una data precisa? Da 38 anni. Sapete, c'è tutto un discorso sulla numerologia nella Bibbia. Perché 38 anni? Che cos'è questo numero? Vuol dire da tanto tempo? Tra l'altro a quel tempo la vita media era 38-40 anni e quindi era... probabilmente cominciava a diventare longevo. Forse era paralitico da quando era nato, chissà. Vedete, nella Bibbia il numero 38 ricorre due volte soltanto. Una nel caso del miracolo, appunto, di questo che abbiamo visto e un'altra volta nel racconto di Mosè in Deuteronomio. Questo è Deuteronomio 2-14. Da quando lasciamo Cades? Parliamo del popolo di Dio nel deserto. Da quando lasciamo Cades Barnea e a quando attraversammo la valle di Zerel, passarono 38 anni. Finché l'intera generazione degli uomini di guerra scomparve dall'accampamento, proprio come Geova aveva giurato loro. E la mano di Geova fu conto di loro per eliminarli dall'accampamento finché morirono tutti. Ma cosa sta dicendo il Signore? Forse bisogna ricordarci questo. Dio dice al popolo di Israele, mandate delle spie a vedere le dodici spie che vanno a esplorare questa terra che il Signore gli ha promesso. Quando tornano dieci spie dicono no, per carità ci stanno i giganti e lontani, è un problema, come facciamo? Non ci stanno le strade. Tutte le giustificazioni che possiamo leggere. Mentre Caleb e Giosuè e Dudino dicono no, ma se il Signore è con noi, noi possiamo entrare. Ma il popolo gli dà contro. Dio diceva voi potete e gli uomini hanno detto noi non possiamo. E lui dirà allora facciamo così, nessuno di voi entrerà nella terra promessa e tutta questa generazione vagherà nel deserto per 40 anni e in realtà sono 38 come è scritto qua. Noi diciamo 40, noi abbiamo arrotondato, ma in realtà quei 38 anni. Quindi c'è anche un messaggio per ricordare al popolo di Israele che il problema era che anche loro avevano rifiutato il Signore, che anche loro erano stato per tanto tempo bloccati e che era il tempo anche adesso di ricominciare a camminare, di rimettersi in moto. Quindi quei 38 anni sono il tempo in cui il popolo di Israele è uscito dall'Egitto vagò nel deserto. Prima di accamparsi per la seconda volta a Kadesh, magari potremmo fare un bello studio su questo, vedere come hanno girato, sono partiti da un punto e sono tornati allo stesso punto. E quindi attraversavano di nuovo il ruscello di Zered 38 anni dopo che la condanna era stata pronunciata per loro. E quindi senza questo dettaglio, questa ricerca, probabilmente questo per noi era indifferente, 38 anni, 35, 21, non ne importa. In questo modo il segno, infatti nel Vangelo di Giovanni noi sappiamo che i miracoli, come ho detto all'inizio, non sono soltanto miracoli per quella persona, ma sono anche un segno per gli altri, acquista un significato particolare per noi. Quindi ci obbliga ad andare indietro nel tempo. Tutti quelli in età sufficiente per andare in quella, var a dire, sui vent'anni, in quanto responsabili della ribellione, morirono tutti. E tutta quella intera generazione passò. E quindi ora la nuove generazioni potevano passare ad entrare nella terra promessa. E quindi per via di quel 38 che qui in Giovanni ritorna, la paralisi di quell'ammalato che Gesù fa camminare presso la piscina ricollega la sua situazione al momento dell'uscita del popolo dai quarant'anni del deserto. È un simbolo. Il Signore anche oggi ci chiama a non restare paralitici nella nostra vita. Guardate che i miracoli di Gesù, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, è cercare di riprendere la vita. Il cieco che riprende a vedere. Guardate quello che sta su. Il paralitico che si mette a muovere. Chi è l'ebroso che viene mondato. È vero che erano le guarigioni più, cioè le malattie più diffuse. Ma ognuno di quelli ha il simbolo. Anche noi siamo lebrosi, siamo paralitici, siamo ciechi. E abbiamo bisogno di Gesù per guarire. Anche come in questo caso, se non sappiamo neanche chi è Gesù. Ma come, Signore? Non è giusto. Magari lì c'era qualcuno che aveva più fede di lui. Perché Gesù sceglie proprio quello? E questa è un'altra domanda che spesso viene fatta. Perché Gesù non guarisce tutti? Perché non va via la... Ma perché ancora non siamo giunti, anche noi, nella terra promessa. Ebrei, al capito 13, dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo stesso Gesù che ha rialzato il paralitico, che ha dato questo messaggio così potente, sarà lo stesso che chiama noi alla guarigione. Che chiama noi a muoverci. Fratello, io vorrei che veramente anche... Questo è un tempo di riflessione. L'estate, no? Se riusciamo a stare in un posto tranquillo, magari nella nostra casuccia con la parola di Dio aperta e pensare qual è la mia malattia da cui devo essere guarito. In questo momento sto parlando di qualcosa di spirituale. In che modo vi posso chiedere al Signore di voler essere guarito? In che modo posso provare a rimettermi in moto in questa vita? In che modo posso mettere le mie capacità al servizio degli altri e della Chiesa? In che modo posso essere per gli altri una luce? Ecco, tutte queste cose vorrei che questa storia ce la potesse aiutare. Da un uomo che prende il suo lettuccio, si alza e cammina, alla Chiesa di oggi, che ha bisogno di riprendere a camminare. Che non può restare 38 anni bloccata dicendo eh, ma non ci sono più giovani, eh, ma non c'è più questo, eh, ma la gente non ha più interesse. Perché non siete ancora cresciuti? Eh, perché diamo la colpa agli altri. Riconosciamo. Forse non dico colpe, ma un po' le nostre mancanze. Chiediamo al Signore di guarirci, di farci tornare a camminare belli solidi.